Quasi 50 relatori è un programma che ha portato alla ribalta le più recenti tendenze e tecnologia all'avanguardia. Questi gli ingredienti del Programmatic Day 2024. L'evento italiano dedicato all'advertising technology ha tagliato il traguardo delle 10 edizioni radunando ancora una volta la comunità dei professionisti italiani della pubblicità digitale. Sempre più aziende si affidano ad algoritmi e dati per raggiungere gli utenti giusti al momento giusto, ottimizzando la precisione e l'efficacia delle loro campagne pubblicitarie. E se il progressivo abbandono dei cookie chiama il mercato alla ricerca di nuove soluzioni capaci di bilanciare rispetto della privacy ed esigenze dei brand, contesti come la tv connessa, il digital autofom e il retail media emergono come nuovi terreni di conquista per il Programmatic Advertising, mentre attention è la nuova parola chiave nell'ambito della misurazione della qualità delle campagne pubblicitarie. Guardando a un futuro che in parte è già presente, apprendersi la scena al Programmatic Day è però l'intelligenza artificiale grazie alle applicazioni pratiche dell'AI nel media planning, nell'ad verification e nella creazione di contenuti sempre più personalizzati. Insomma, l'innovazione guidata dalla tecnologia non mostra segni di rallentamento e anche quest'anno il Programmatic Day si è confermato un osservatorio privilegiato sul futuro della pubblicità, dove la tech è destinata a restare al centro della scena.